buongiorno a tutti allora magliettina nero azzurra perché dobbiamo parlare della vittoria dell'inter con il PSV Eindhoven che dire io l'ho vista al Barbero tranquillo con gli amici e la solita inter la solita inter che tiene palla prende possesso della delle operazioni come si suol dire cerca di mettere sotto l'avversario fa i suoi allarga di qua allarga di là fa il cross e non segna e alle occasioni e non segna perché abbiamo avuto il triplo delle occasioni loro però se non la metti dentro non la metti dentro poi loro fanno un'azione quattro passaggi quello guarda tira e trova l'incrocio dei pali e va bene poi meno male che non c'è la VAR perché se ci annullavano un gol del genere mi giravano i coglioni a elica perché i carnici aveva la lunghe incarnita in fuorigioco io ripeto per me il fuorigioco è quando un giocatore è completamente davanti al suo avversario se c'è una qualsiasi parte del corpo che è in linea con il difensore non è fuorigioco però adesso fanno deciso che se anche c'è l'unghia incarnita in fuorigioco è fuorigioco e quindi quel gol lì purtroppo i carnici in quel momento lì aveva il piedino un po più avanti del difensore ma era proprio una roba il resto del corpo era in pari con il difensore tranquillamente quindi erano di quei fuorigioco che come si suol dire nel caso di dubbio non alzare la bandierina e comunque meno male poi annengo la messa perché tiro para il portiere ritiro respinge il difensore ritiro e finalmente è andata dentro comunque pareggio 1 a 1 prima della fine del primo tempo al 44esio nella ripresa abbiamo ripreso il pallino del gioco abbiamo continuato ad attaccare abbiamo continuato a giocare abbiamo continuato a creare occasioni che non andavano a buon fine finché vessino ha deciso di fare un lancio alla matteoli perché veramente ha fatto un lancio stupendo icardi è stato furbo a scattare via all'avversario e poi ha fatto un gol alla beazza perché praticamente cosa ha fatto la palla rimbalza il portiere sta uscendo c'è di fianco al difensore lui cosa fa di testa anticipa al portiere che va a sbattere contro il difensore come un babalone e lui bello tranquillo a porta vuota l'appoggia dentro meno male non era che andreva perché se era che andreva la tirava fuori è matema o sul palo invece lui l'ha messa prella al centro della della porta meno male il difensore non è riuscito a salvarla bellissimo gol e poi meno male che il signor andanovic che già aveva fatto la caprata nel primo tempo con quell'uscita fuori area che meno male non gli ha dato il rosso perché giustamente non era occasione da ultimo uomo perché c'era la difesa ormai schierata ormai era non riuscì poi comunque era sulla fascia fosse stato centralmente quello era rosso tutta la vita invece era laterale la palla stava andando lateralmente quindi gli ha dato fortunatamente il giallo perché sennò c'era da ridere a giocare in dieci contro il PSV che a parte quel berwin che mi è piaciuto molto e lo sano che mi è piaciuto molto non mi sembrano sti fenomeni berwin sì berwin ci ha dato abbastanza filo da torcere lo sano lo sappiamo non è è tanta roba però per il resto non mi sembrano dei dei fenomeni e se eravamo un attimino più cattivi gliene potevamo pestare giù un paio di più il guaio è che sia sempre l'inter che tic 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 poi quando si riparte non vedo mai o fanno le cose frenetiche buttano via la palla per cercare il lancio lungo la passano agli avversari o se no prendi la palla sei in contropiede torni indietro poi riparti tic 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 finché alla fine la palla arriva al politano che prova a saltare l'uomo magari ci riesce la mette in mezzo la difesa le spinge arrivano a ingolano vessino brosovic provano il tiro o se no riprendono la palla la passano a perisi perisi prova a saltare l'uomo non ce la fa calcio d'angolo allora si sale tutti sul calcio d'angolo poi però lo battono corto e poi glielo oppure glielo passano a quello che al limite dell'aria prova il tiro cioè è venuto una volta ai carni il tiro dal limite dell'aria non è che basta crossare indietro al limite dell'aria ce n'è ingolano brosovic tirano e segnano sarebbe troppo bello e comunque il gioco è quello però alla fine della fiera due cucuzze le abbiamo riusciti siamo riusciti a metterle dentro stiamo crescendo crescono moltissimo devrai e scrignia perché veramente ci abbiamo due difensori che definirei mica da ridere però tra tre settimane sappiamo di che pasta sono fatti perché la partita con il barcellona diventa un crocevia importante per il nostro girone l'altro giorno ne parlavo con l'alessandra peluso che diceva spero che vinca il tottene c'era io ho detto no spero che vinca il barcellona perché noi prima prima di tutto dobbiamo assicurarci la qualificazione agli ottavi e poi vediamo di prendere il primo posto che sarà non facile ma molto ma molto di più cioè già arrivare secondi in questo girone sarebbe tanta roba quindi calma cominciamo a pensare adesso abbiamo sei punti di vantaggio sul tottenham che però adesso sulla carta ha due partite in cui può tranquillamente raggiungerci perché gioca contro il PSV non sarà semplice per loro vincere col PSV non è che vanno lì tac vincono 2-3-0 però credo che il barcellona col PSV sei punti li possa fare il barcellona scusate il tottenham e se il tottenham fa sei punti col barcellona e noi non riusciamo a fare manco un punto con il come buona no fa sei punti col PSV e noi non riusciamo neanche a fare punti con il barcellona sono dolori perché poi dopo devi andare a giocare da loro e conta poi lo scontro diretto viceversa se noi riusciamo a fare anche solo un punto con il barcellona loro poi dell'ultima la devono giocare col barcellona è vero che il barcellona è capacissimo di giocare con le seconde linee apposta per perdere e noi farci uscire quindi per noi diventa importantissimo riuscire a fare punti con il barcellona e sperare che loro una delle due partite col PSV pareggiano perché sennò sono dolori perché sennò cosa succede tu fai anche anche se fai un punto con il barcellona sei a sette e loro arrivano a sei poi devi andare a giocare a Londra se a Londra pareggi hai chiuso il discorso perché loro comunque restano a sette noi ne andiamo a otto noi poi abbiamo un'ultima in casa con il PSV basta vincere col PSV e loro non ci possono prendere se viceversa malauguratamente dovessimo perdere con il Tottenham loro vanno a nove noi restiamo a sette poi loro l'ultima ce l'hanno con il barcellona che è già qualificato e che poi magari proprio per non farci passare il turno cosa fa perde apposta la partita in casa come già successo al Napoli con il City che andò a giocare con lo Shakhtar Donetsk con le seconde linee perse e il Napoli andò a casa quindi per noi in questo momento diventa basilare fare punti con il barcellona almeno un punto almeno uno e poi vedere cosa fa il Tottenham perché se col PSV il Tottenham dovesse pareggiare anche solo una partita hai chiuso il discorso hai chiuso quasi il discorso perché comunque loro pareggiando una partita eccetera vanno in ogni caso a quattro e noi pareggiando con il Barcellona andremo a sette quindi in ogni caso devi giocartela là perché se perdi vanno sette e sette e siamo sempre da capo l'ideale sarebbe vincere una partita con il Barcellona ma non sarà per nulla semplice le opzioni ci sono siamo messi bene ma mancano quattro partite sono quelle più toste anzi tre sono toste una dovrebbe essere scontata se non fanno i deficienti col PSV in casa già eliminato non dovremmo avere assolutamente problemi i problemi ci potrebbero essere qualora incredibilmente il PSV dovesse battere in tutti e due i casi il Tottenham che sarebbe una cosa che non sta né in cielo né in terra però tutto può succedere e allora le cose cambiano perché ti trovi a giocare con un Tottenham ormai eliminato che però magari vorrà almeno uscire con onore eccetera eccetera e poi dopo il PSV bisognerà vedere cosa farà col Barcellona vedremo le prossime partite però ripeto io ho visto spesso ahimè no ho visto spesso succede hai sei punti hai fatto sei punti dopo due giornate pensi ormai è fatta è fatta è fatta poi arrivano le partite toste e non che queste qua non lo fossero però adesso hai due partite con il Barcellona che sono tostissime e poi devi andare a Londra con il Tottenham quello che esce da quelle tre partite è basilare ed è quello che dirà cosa possiamo fare in Champions o eventualmente in Europa League perché con questi sei punti penso che ormai ci siamo non dico garantiti ma quasi almeno il terzo posto bene ho parlato anche troppo ci vediamo al prossimo video oggi ripeto mi è piaciuta ma vorrei un più di velocità hanno sempre quel fatto che stai ripartendo hai ripreso la palla stai ripartendo ti fermi e torno indietro ti fermi e torno indietro poi riparti l'azione fai l'attuazione siccome non abbiamo parte politano perché perisic anche oggi è stato una cosa uscena non lo so che cosa sto ragazzo Brasovic sta giocando divinamente corre lotta recupera palloni si fa dare la palla indietro fa ripartire l'azione sbaglia va subito a recuperare va subito a rompere le scatole a chi gli ha portato via la palla in modo da non farlo ripartire cioè è il Brasovic che abbiamo visto nelle ultime partite dell'anno scorso quello che ci piace tanto perisic no perisic a questo punto spalletti farebbe bene a dire figliolo fatti un mese tranquillo ti faccio giocare degli spezzoni di partita riprendi il tuo ritmo eccetera torna in forma e poi dopo torni a giocare perché se devi giocare così giochiamo in dieci e mezzo e non va bene perché non 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 da una mano dietro perché poverino sta recuperando ha dato una mano sì stasera però non è il perisic che ci ricordiamo non è il perisic che salta l'uomo non è il perisic che mette dei bei palloni in mezzo anche oggi ha fatto quell'azione sulla fascia Icardi è tornato indietro come aveva fatto nel derby quando segnò il secondo gol e lui anziché dargliela indietro gliela ha messa sul primo subito secca parallela alla porta Icardi invece era tornato indietro per ricevere perché si era spostato dalla marcatura e quindi vuol dire che il ragazzo non è lucido e se è stanco è e non va bene perché per noi è quel qualcosa in più di aggiunto insieme a politano che sta facendo veramente un campionato devo dire mica da ridere poi va bene tratto borca valero siamo tranquilli lui i suoi dieci quindici nel nostro pagnotta della longobarda lui lo metti dentro quei dieci quindici minuti il suo lo fa sempre palla lui palla in cassaforte però è logico non gli puoi far fare 90 minuti con la juve con il napoli con il milan con la lazio eccetera 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 perché comunque sono centrocampi diversi forse col milan sì perché ci abbiglia si annullano a vicenda due lentoni uguali ecco sputazzato ma niente vabbè ho parlato come dicevo prima un po troppo fatemi sapere voi cosa ne pensate ah giusto andanovic andanovic cima bue cima bue fa una cosa sbaglia due perché veramente allora il tiro da casa sua e lui cioè io non dico che poteva prenderlo perché era all'incrocio dei pali ma figliolo almeno tu fatti provaci no è arrivato il tiro si era così lui è andato dentro poi mi esci su un pallone che non è manco tuo vedi che sei in ritardo e mi vai di mano meno male ti ha dato il giallo perché se ti dava il rosso noi questa partita la perdavamo meno male che è stato giusto perché comunque non era una nazione da gol e quindi giusto il giallo poi dopo ti inventi quella parata su quella rovesciata che vabbè era da fenomeno ma io continuo a dirlo andanovic è fortissimo tra i pali nei tiri nell'area di rigore gli tiri anche dal non dal dischetto dall'area sua di rigore dall'area piccola gli tiri una mina a 200 all'ora lui te la prende gli tiri una mina da 40 metri lui come zo fa i mondiali del 78 dimentica le lenti a contatto non ci vede da lontano quindi non li prende da vicinissimo è un gatto è un gatto miau bene ho parlato per l'ennesima volta vi dico che ho parlato troppo chiudo qua il discorso 15 minuti di video mi sa che vi ho legionato i testi e ci vediamo al prossimo ciao però mi stavo dimenticando Nainggolan non è che non posso parlare di Nainggolan e Asamoah perché Nainggolan sta correndo come un matto mi guai è che lui dovrebbe essere il trequartista invece c'è il giocatore a tutto campo sta giocando a tutto campo recupera palloni va in fascia a dare una mano in fascia a farsi vedere tira da fuori area si fa vedere fuori area cioè sta veramente facendo il totum in questa squadra e sta crescendo sempre di più quindi meno male l'unica cosa è un po' come compri tre paghi uno prendi tre cioè lui un gol tre tiri minimo perché sennò un tre tiri tre gol non è possibile però meno male la castagna ce l'ha segna ed è importante che segni il centro campo Asamoah sulla fascia è quello che è è un giocatore che avevamo di cui avevamo bisogno non sarà un fenomeno però mette forza fisica mette mette un buon piede sa crossare sa fare sa tirare il gol è arrivato da un suo tiro ha tirato lui da casa sua il portiere l'ha respinto Icardi è andato a prenderla gli ha tirato il difensore la ripresa e poi è arrivato Nainggolan a segnare quindi tutto merito di Asamoah di Icardi che è stato bravo a correre finalmente ad andare su un pallone e quindi tanta roba d'Ambrosio oggi non mi è piaciuto ma sappiamo benissimo che fa quello che può con quello che ha come diceva Alberto Manzi i difensori ve li ho detti manca Vessino Vessino lancio stupendo per Icardi cosa devo dire di basta avanza quello e poi tanta legna a centrocampo come al solito l'unica cosa lui o segna di testa o se no non segna perché anche oggi Icardi gli ha passato un pallone con scritto mettilo sotto l'incrocio lui l'ha messo sopra l'incrocio di mezzo metro e no perché tu in area un pallone del genere lo devi spedire sotto sotto il set non sopra il set sotto il set invece lui lo sbaglia poi gli arriva la palla di testa e lui la mette però di piede come Gagliardini sono due ferri da stiro ok chiudo qua non parlo più e ci vediamo naturalmente al prossimo video ciao